No alla movida dei nonni, così l'assessore Lucia Tanti annuncia la non riapertura dei centri di aggregazione nel territorio del comune di Arezzo. Ad Arezzo i CAS sono 22, hanno complessivamente circa 5.000 soci. Il 5% degli arettini sono dunque soci di un centro di aggregazione sociale, a meno che non si intenda aprire, afferma la Tanti un CAS, per ospitare circa 20 persone alla volta. Trovo davvero singolare questa insistente richiesta, se da una parte quindi sostengo tutte quelle iniziative che nel rispetto delle regole di sicurezza permettono agli anziani delle nostre case di riposo di poter rivedere i propri figli e i propri nipoti, convinta che in queste situazioni, oltre alla prudenza, debba esserci anche il coraggio, non mi pare che ci si debba oltremodo soffermare su richieste obiettivamente prive di senso che espongono le persone a rischi inutili. Ciò non toglie, prosegue la Tanti, che se qualche CAS meno popoloso e che negli anni ha avuto qualche difficoltà, come per esempio il CAS del Pionta, volesse fare una micro sperimentazione per riorganizzare gli spazi interni, non possa farlo, ma basta seguire le linee guida per capire che tutto ciò che aggrega molte persone è vietato.